Una raffica di domande alle quali hanno seguito una raffica di risposte, un serrato botte risposta tra il PM Marco Dioni e padre Graziano andato avanti per oltre sei ore. Il religioso accusato dell'omicidio di Guerrina Piscaia dell'occultamento della distruzione del suo cadavere è tornato in aula per l'interrogatorio dopo il rinvio della scorsa settimana. L'udienza ha preso avvio con il racconto del frate congolese che ha dichiarato di aver assunto delle gocce calmanti in carcere e che ciò lo avrebbe reso meno lucido durante l'interrogatorio all'interno della casa circondariale a retina dell'agosto 2015. Quando lui ha reso interrogatorio il 26 di agosto del 2015 in carcere era in quelle condizioni. Oggi avete visto che stando agli arresti domiciliari e quindi stando in una condizione ben diversa ha avuto modo di rispondere in maniera piena e puntuale a tutte le domande che sono state fatte. Lui ha detto che prendere questi calmanti ma da qui a definirlo poco lucido quando ha reso l'interrogatorio la distanza è enorme. L'interrogatorio è stato fatto in maniera assolutamente regolare, è durato del tempo, gli è stato letto quello che aveva detto a Sitte, se poi ora... E era anche assistito dal proprio legale, insomma quindi tutte le garanzie erano state poste in essere. L'esame è poi proseguito serratissimo, il PM Marco Dioni ha toccato tutti i punti caldi della vicenda partendo dal desiderio della casalinga di Caraffello di avere un figlio dal frate congolese espresso dalla stessa donna nel novembre 2016, circostanza che portò il religioso a dirle che se ne avesse avuto bisogno si sarebbe potuta rivolgere ad una cinecologa sua amica. Aveva soltanto la paura che venisse divulgata una notizia non vera, ben sapendo che non poteva avere nessun crisma di veridicità l'assunto che aveva potuto mettere incinta Guerrina o avere avuto rapporti sessuali con Guerrina. proprio per diciamo sradicare questa storia, questa vicenda disse andiamo in ospedale e andiamo a verificare se sei effettivamente in stato di gravidanza. Fu determinante questa scelta di padre Graziano perché Guerrina non si presentò all'appuntamento. Il dibattito si è poi concentrato sulla figura chiave di questa intricata vicenda a zio francesco, personaggio per l'accusa a frutto della fantasia di padre Graziano. Il religioso ha descritto l'uomo alla corte, cinquantenne presumibilmente nordafricano, con capelli ricci e con un tatuaggio che ritrae uno scorpione sull'avambraccio sinistro. Il frate ha dichiarato di aver incontrato quell'uomo per la prima volta il primo maggio a Sestino e di averlo visto una seconda volta a Caraffello il 10 maggio, questa volta quella casalinga scomparsa. Ha sempre detto e descritto questa persona nella stessa maniera, mai cadendo in contraddizione. Non ne ha parlato fino a settembre però. Lo ha spiegato dicendo che lui era convinto che la vicenda riguardasse una questione legata alla confessione e ad una questione legata alla voglia di riservatezza di Guerrina e di questo signor Francesco. Il religioso, poi su domanda diretta del PM Marco Dioni, ha negato di aver mai posseduto il cellulare di Guerrina sia prima che dopo la sua scomparsa. L'interrogatorio riprenderà il 15 luglio data fissata per la prossima udienza.